Scatola portapenne. Costruisci questo utilissimo portapenne utilizzando soltanto un normalissimo foglio A4. Piega il foglio in quattro parti per formare una W. Dispiega il foglio per vedere la piega. Piega due piccoli triangolini agli angoli. Poi gira il foglio a faccia in su e piega due piccole porticine. Prima piega la porta di destra e poi quella di sinistra. Piega la diagonale dei due quadrati agli angoli. Gira il foglio. Piega e inserisci l'ala nella tasca per creare un angolo. Poi piega e inserisci l'altra ala per completare la scatola. Hai preparato la tua scatola portapenne senza l'uso di colla e ora è pronta per l'uso. Grazie. 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 Grazie.